Paolo VI, Parco del Mirto, un'area favolosa, doveva essere un'area favolosa, un polmone di verde per la collettività, soprattutto per gli abitanti del quartiere e invece il Parco del Mirto è abbandonato a se stesso ed è diventato meta di vandali che lo hanno devastato, distrutto, sottraendo alla collettività, alla cittadinanza un'area, lo ripeto, meravigliosa. Vi faremo vedere punto per punto le zone di devastazione e sottolineiamo il fatto che l'amministrazione comunale non è mai intervenuta per far sì che la sicurezza nel Parco venisse garantita. Guardate qui una cabina elettrica che è stata completamente divelta, distrutta e ovviamente poi questo comporta il fatto che l'illuminazione praticamente è out, non esiste più. Vedete anche lì un lampione che è completamente rotto, quindi la zona, la sera e la notte è completamente buia, il che ovviamente ha una incidenza enorme in termini proprio di sicurezza, la gente ha paura. Vi stiamo facendo vedere le immagini di giorno del parco con le devastazioni subite, ecco vi facciamo vedere qual è il triste quadro notturno. Un'area ridotta a discarica, guardate qui pezzi di finestre, di infissi che molto spesso, poi questi rifiuti vengono molto spesso anche bruciati. Le scritte che raccontano di una storia diversa, di quella che doveva essere, parco giochi, bagni e invece qui vedete tutto bruciato, i rifiuti bruciati. Dispiace davvero che ci siano ditte che ovviamente operano per pulire la zona, per renderla disponibile per la collettività, però poi assistiamo appunto a situazioni del genere, ripeto il grosso problema qui è la mancanza di sicurezza, viene bruciato tutto e quindi abbiamo una discarica a cielo aperto. Punto per punto la situazione è davvero incredibile, fa rabbia vedere un polmone di verde così maltrattato, abbiamo l'oro, abbiamo la ricchezza e non sappiamo valorizzarlo. L'amministrazione comunale appunto, ripeto, non ha fatto nulla per migliorare questo parco, assolutamente nulla. Ci siamo addentrati nel parco e qui vedete c'era un'area, c'era un bellissimo specchio d'acqua che raccoglieva appunto le acque di un ruscello, qui c'erano anche le anate, le paperelle, insomma, e invece guardate come è ridotta, una zona completamente abbandonata, c'è erbaccia, c'è terra, ci sono rami secchi, insomma qui ecco la memoria ci ricorda che c'era un bellissimo, ripeto, laghetto, chiamiamolo così impropriamente, volgarmente, uno specchio d'acqua che non c'è più, una situazione grave e ora l'abbandono regna sovrano. Mi domando perché quest'area debba rimanere così, restare così abbandonata, in altre parti d'Italia i parchi vengono valorizzati e diventano un fiore all'occhiello, qui invece l'abbandono assoluto. Nel parco del Mirto c'è però un'oasi fantastica, la Comunità Madonna della Pace, è un centro di aiuto per i più bisognosi, è un messaggio di speranza, danno davvero un aiuto, quell'aiuto che l'ente comune non ha mai dato, che le istituzioni non hanno mai dato, meno male che il volontariato c'è, meno male che, ripeto, certi soggetti religiosi hanno una grande forza d'animo che appunto sopperisce al vuoto istituzionale. Questo è il parco del Mirto, da sindaco interverrò in maniera massiccia, riqualificandolo e poi ovviamente mettendolo in sicurezza, verrà appunto presidiato, sì bisogna usare questo termine presidiato, ci dovrà essere un controllo H24 recintato e presidiato. E ripeto, l'amministrazione comunale attraverso i vigili urbani collaborerà con appunto le forze dell'ordine per garantire la sicurezza in questo parco. Ripeto, riqualificazione e sicurezza, cose che sono assolutamente mancate con l'amministrazione Melucci. Taranto merita molto di più, gli abitanti di Paolo VI meritano molto di più, gli abitanti di Taranto meritano un parco del Mirto che sia davvero il fiore all'occhiello della città, un polmone verde, così come ci sono tante aree a verde in altrettante zone d'Italia.